La valutazione di questo prodotto di Tefal è di 8.8 voti su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Si propone come una delle migliori soluzioni per qualità prezzo, è realizzato con ottimi materiali e una qualità decisamente sopra la norma. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Tefal è di 9.2 voti su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 1320 valutazioni. Le caratteristiche principali sono. Sapore. Ottimo rapporto qualità prezzo. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Tefal ha riscontrato una valutazione di 9 su 10 totali. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta di una delle opzioni di acquisto più diffuse e apprezzate dagli utenti, come testimoniano le recensioni più che positive da parte di chi l'ha provata. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video.